una scuola di danza nello stomaco una moneta celebrativa varrà mica qualche cosa di più di quello che vale grazie mi sono appena arrivate le immagini di un l'uovo luis che stiamo costruendo in questi giorni ho fatto troppe foto con persone stavo dicendo che in questi giorni ho fatto troppe foto con persone per strada e mi si deve essere sciupata l'anima e la faccia con essa sono stato violentato a forza di selfie proprio è comprensibile perché è vero che toccandomi funziona un po come il papa nel senso se mi tocchi diventi un po me no chi non vorrebbe essere me